Tutti i giornali sono più prudenti di quello che non fossero i giornali ieri e si interrogano su quello che potrà succedere. Vi faccio vedere la Repubblica per cominciare. Ecco perché mi dimetto, ieri un po' sorpresa dal lungo intervento del direttore del Corriere della Sera, il giornale concorrente Ferruccio De Bortoli, che raccontava tutte le ultime 24-36 ore di Mario Monti prima delle dimissioni. Il direttore della Repubblica fa lo stesso e spiega, con fonti naturalmente anche qui di prima mano, qual è il piano del Presidente del Consiglio. Poi dice paura per i mercati e cita nel sottotitolo la Repubblica Schulz. Schulz è il leader dell'opposizione socialdemocleica tedesca al Parlamento europeo, Presidente del Parlamento europeo. Dice Berlusconi minaccia la stabilità dell'Unione europea. Secondo la Repubblica si va al voto il 24 febbraio. Napolitano è preoccupato, ieri ha detto una frase molto significativa, vedremo cosa fanno i mercati, io non parlo, parlerò fra otto giorni. Mi sono dimesso, c'è molta preoccupazione ma non potevo proprio evitarlo, il mio futuro è in politica, ora non lo so. Questo è Monti a Ezio Mauro. L'Europa teme il ritorno di Berlusconi, Schulz rappresenta una minaccia per tutti noi e si rifaccia il rischio di una richiesta di aiuti. Basta con le balle del Premier, ora deve evitare di candidarsi. Chi parla? Renato Brunetta. Quest'uomo è tornato in auge e sembra che sia il principale consigliere di Silvio Berlusconi. Martin Schulz è un socialista, non è l'Europa e comunque le istituzioni europee non hanno voce in capitolo sulla libertà di Berlusconi di candidarsi o meno. Bersani chiarisce alle elezioni, resto io il candidato Premier, in caso di pareggio niente Monti Bis. Intanto vedete si prepara. Montezemolo che aveva detto sì, poi no, poi sì, poi ancora no, ora dice voglio aiutare Monti a tornare a Palazzo Chigi. Il leader di Italia Futura a questo punto non esclude un accordo con il PD. E questa è una notizia invece importante, provincia allarme del governo senza decreto caos istituzionale. Allora ecco l'unità, non so se potete considerarlo un appello, un grido di gioia, un auspicio, ma insomma il titolo dell'unità è mai più Berlusconi. Monti oggi prova a rassicurare i leader dell'Unione Europea. Vi faccio vedere Staino, Staino la vede così, la situazione politica italiana. Dice che ha cercato disperatamente un leader adatto a sostituirlo e che non facesse sfigurare l'Italia negli incontri con Putin. Insomma invece negli incontri con l'Unione Europea, negli incontri con Putin. Allora questo è il titolo. Vi faccio vedere il Sole 24 Ore, sapete bene che il Sole 24 Ore della domenica è un giornale un po' particolare, del lunedì chiedo scusa. Imprese, la crisi non frena le tasse, più imposte per una società su due, le realtà in perdita sfiorano quasi 200 mila. Bisogna ridurre questo prelievo, dice Salvatore Padula, ed è una priorità però per il futuro. I tagli alla sanità sotto attacco. Nel mirino la rinegoziazione dei contratti, in gioco un miliardo e 800 milioni. Ricorsi e contenziosi rischiano di alleggerire i risparmi previsti dalla spending review. IVA, la fattura si prende più tempo, che vuol dire che c'è una direttiva che permette l'emissione entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione dei servizi generici. Un po' di respiro. Crisi, torna, l'allarme spread. Speriamo che non sia così, ma questo è il pensiero del messaggero, il quale dice che ci sarebbe una frenata sulla candidatura di Mario Monti, mentre, ve lo dicevo, per le province senza il sì al decreto sarà caos per scuole e rifiuti. Visto che ci siamo, nessuno come Totti, nel senso che il giorno... Ebbè, ha giocato l'altro ieri la Roma, una delle più belle partite, forse la più bella partita del campionato, un 4-2 che poteva essere benissimo 6-3, insomma. Comunali, scontro sul voto, quando si vota a Roma? Il PDL vorrebbe anticipare, ma vedremo. Mentre la gazzetta dello sport ci dice Grinter, perché con grande grinta l'Inter ha vinto contro il Napoli, la Juventus pure, giocando un calcio di tempi antichi, poco spettacolo, veramente molto poco spettacolo. Pubblico, dici Monty Python, questo è il titolo di pubblico, situazione surreale, il premier tecnico che dimissionario pensa all'ingresso in politica. Quei segnali dal palazzo, più al colle che in lista, era invece l'auspicio, per esempio, di molti che andasse fuori dalle parti, sopra le parti e poi candidato alla presidenza della Repubblica. Nomi nuovi e subito la squadra, Silvio è un avversario, cosa deve fare? Bersani. Ecco invece il foglio, il foglio parla del Papa, ma insomma c'è una filippica di Ferrara su Grillo. Grillo è un calvero annoiato. Chi è calvero? Calvero è il personaggio di un bellissimo film, Charlie Chaplin, che si chiama Luci dello spettacolo, Lime Light, Luci della ribalta, come volete dire, come volete tradurre, in cui fa il comico che ha perso la sua comicità, questo lo dice su Grillo, si potrebbe dire anche per altri, ma insomma lo dice su Grillo Ferrara, ma è che ha una vena molto molto triste, viene salvato da un incontro con una giovane donna che vuole far trionfare sul palcoscenico e naturalmente ci riesce. Però dubbi su questo sistema di parlamentarie, si vota solo in rete, ce ne sono anche su altri giornali per la verità, questo è la Repubblica, ci ritorniamo, né controlli esterni, né dati ufficiali, le mani di Grillo e di Casaleggio, Casaleggio è il suo consigliere, l'esperto di informatica, sulla macchina delle primarie. Prima di passare al tempo che torna su questo argomento, mi farei vedere questa notizia, Chavez che ammette, è stato operato due volte di cancro a Cuba e questa volta ammette, Presidente del Venezuela, il cancro è tornato, mi opero, potrei non farcela, la rivoluzione bolivariana, come la chiama, deve sopravvivere a me e cerca un successore. Vi dicevo del tempo, perché il tempo ieri era stato durissimo con Berlusconi, Berlusconi si gioca l'Europa, continua pure oggi, ma il discorso che fa il tempo è che il governo dei tecnici è stata una risposta necessaria ma insufficiente e che quindi va bene Monti, ma bisognerebbe fare di più. E poi il fatto quotidiano, Monti è partito, ora ho le mani libere dopo l'annuncio delle dimissioni, il previer tecnico si prepara a correre in politica, ma deve decidere con quali truppe. Allora, il giornale, torna, l'asse Berlusconi lega il futuro del centrodestra, Silvio detta la linea al PDL, si lavora al patto nazionale con il carroccio, nessuno ostacola una lista degli ex AN. Scrive invece Vittorio Feltri, insensato il fiume di indignazione che inonda i giornali per le dimissioni di Mario Monti propiziate dal PDL. La legislatura ormai era conclusa, settimana più, settimana meno, non cambia nulla. Vorrà dire che le elezioni, anziché il 10 marzo, si svolgeranno in febbraio e non è una tragedia, tanto più che le leggi di stabilità e di bilancio passeranno regolarmente. Poi Feltri dice, teniamoci Berlusconi perché è meglio di niente, ed ecco il Corriere della Sera. Monti non si può delapidare un tesoro. PDL, vertice da Berlusconi, doverose le dimissioni, vedete, dice doverose le dimissioni, non volevamo precipitare. In Sicilia e Lombardia PDL costretto ad allearsi. Scrive Polito, c'è un'Italia dietro Monti e poi dice che ci sono due posizioni, ripropone gli estremismi. A destra dove Maroni chiede al PDL di andare avanti fino in fondo, ma non si sa quale sia questo fondo. A sinistra dove Fiume e Vendola c'è chi considera l'Europa un club di banchieri. Il guadio peggiore del discorso di Milanello, ora se la prende con Berlusconi, sta proprio nel ridare legittimità a questi estremismi. Io però vi voglio assolutamente far vedere due cose. Primo, non si possono mandare in malora tutti i sacrifici fatti dai cittadini. Parla il capo della conferenza episcopale, Bagnasco, il responsabile che pensa a sistemarsi mentre la casa brucia. Casini e Montezemolo preparano la lista per monti, diciamo così. Poi ancora, situazione internazionale, la battaglia di Al-Azhar, l'università che decide della sciaria in Egitto. E questo è veramente importante, perché in questa università c'è un rettore abbastanza moderato, ci sono giovani che vogliono la democrazia e ci sono naturalmente gli islamisti che vogliono una versione vecchia della sciaria. La grande battaglia per la democrazia in Egitto continua.